Giovanni Di Maida è stato nominato commissario straordinario del Consorzio Universitario Agrigentino Empedocle. Lo ha deciso l'Assemblea dei Soci che si è riunita ieri mattina nella sede del Polo di Contrata Calcarelle. Erano presenti il rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari, che dopo la riforma dei consorsi è tornato ad investire nel Polo Decentrato di Agrigento, il sindaco della città capoluogo Lillo Firetto, il rappresentanza del socio di maggioranza, il commissario della Camera di Commercio Giuseppe Termine, altro socio del CUA. Di Maida avrà il delicato compito di traghettare l'Università Agrigentina nel nuovo corso. La Regione non ha infatti ancora nominato il nuovo Presidente del Consorzio e dunque si è resa necessaria una proroga degli incarichi scaduti il 31 luglio scorso dei due consiglieri di amministrazione. In sostanza l'Assemblea dei Soci ha ratificato la prosecuzione dell'attuale Consiglio di Amministrazione fino a quando l'assessore all'istruzione, Roberto Lagalla, non provvederà alla nomina del Presidente e quindi si insedierà il nuovo CDA. Ad oggi le figure del Consiglio di Amministrazione sono quella del Vice Presidente, nominato dal Sindaco di Agrigento, rappresentanza dei sogni, cioè Giovanni Di Maida, e quella del Professore Enrico Napoli in quota Università di Palermo. Di Maida dunque adesso sarà il commissario. Accetto l'incarico, ha detto Di Maida, con lo spirito di servizio e abnegazione che mi ha sempre contraddistinto. Sono consapevole della responsabilità che deriva da questa nomina, ha aggiunto, ma posso assicurare che lavorerò nell'interesse del Consorzio e per il rilancio dell'azione culturale e sociale sul territorio del Polo Universitario. Il Presidente, spiega Di Maida, sarà nominato alla Regione, ma poiché dovrà designare i Presidenti e tutti i consorsi siciliani, bisogna aspettare che tutti gli enti modifichino gli statuti, cosa che noi invece abbiamo fatto. Quindi per i Presidenti se ne parlerà almeno in autunno. I primi risultati si sono già registrati, le iscrizioni aumentano a vista d'occhio, le preoccupazioni sul futuro della struttura, almeno nell'immediato, sembrano ormai un ricordo lontano. Gettonati i nuovi corsi di lauree attivati da Palermo, per il prossimo anno accademico, dopo un lungo periodo di incertezze. Primo per preferenza è Scienze dell'Educazione, per la prima infanzia, che è anche l'unico a non essere a numero programmato e senza testi d'ingresso. Poi Economia e Amministrazione Aziendale, Architettura e Ambiente Costruito, mentre stabili sono i numeri per quanto riguarda il servizio sociale, l'unico corso sopravvissuto agli anni della carestia. Ad Agrigento la nuova offerta formativa comprende anche il corso di laurea in Architettura e Ambiente Costruito, coordinatore Francesco Maggio, che troverà spazio al Monastero di Santo Spirito. Il corso in Economia e Amministrazione Aziendale, coordinato da Gianmarco Ruisi, che potrebbe essere inserito nella sede di Villa Genuardi, e Scienze dell'Educazione per la prima infanzia, coordinato da Antonio Belingreri, che probabilmente sarà collocato nella sede di Via Quartararo. Confermato anche il corso di laurea in Servizio Sociale, coordinato da Giulio Gerbino. Ottimi risultati per il corso di mediazione linguistico interculturale, realizzato dal Consorzio Universitario Contrisforma Goramundi, che nonostante il costo di iscrizione, avrebbe già fatto registrare 45 adesioni.